Musica Ciao a tutti ragazzi come state? Benvenuti in un nuovo video e dato che oggi è martedì benvenuti ad un nuovo rompicapo Come al solito cerco di portarvi sempre dei rompicapi rari che non ha nessuno o roba nuova insomma mai vista I rompicapi che voglio farvi vedere oggi sono due e sono il rompicapo fuggi da Alcatraz e il rompicapo della luna o della mezzaluna Ok? Che è questo qua Lo scopo dei due rompicapi è quello di riuscire a togliere le monete ovviamente dall'interno di ogni singolo rompicapo Sono due rompicapi livello 8 quindi sono abbastanza difficili io direi di metterci al tavolo e di provare a risolverli Musica Allora ragazzi i rompicapi in questione ovviamente sono qua Questi due io direi di iniziare con quello di Alcatraz perché è quello che per ora mi ispira di più tra i due Mi sembra abbastanza complicato quindi provo a risolvere questo per primo Allora come potete vedere il rompicapo è sostanzialmente questa barretta di metallo perché comunque è metallo questo è bello rigido All'interno qui c'è un euro quindi la moneta e questa parte che va verso il basso Come vedete ovviamente questa parte si blocca qua Per il resto non c'è assolutamente niente si è bloccata Cosa ho fatto? Ah l'ho ruotato verso il basso quindi così Ah ok perfetto iniziamo subito Così si blocca l'ho ruotato verso il basso e lui si è bloccato Perfetto Adesso è tornato normale perché ho fatto così Ottimo iniziamo proprio subito con le cose da capire Allora come sentiamo c'è qualcosa che si muove all'interno Quindi io proverei ovviamente a tirar fuori questo e a ruotare come ho fatto prima Quindi a far scendere dalla parte opposta Quello che fa sì che si blocca tutto Vedete? E adesso si è bloccato Se do un colpetto Perfetto Rimane bloccato Quindi questo dovrebbe essere il primo passaggio che mi è uscito proprio a culo Cioè se io ritorno così No Scherzavo? Sì ok Torna indietro Quindi in teoria se io lo giro così lui dovrebbe No Bisogna dargli un colpetto allora Esatto Ok perfetto Allora c'è una sequenza di colpetti probabilmente sarà questo Quindi se do un colpetto qua Probabilmente succede qualcosa Secondo me è una combinazione di colpetti Quindi potrebbe essere così Come abbiamo visto anche per l'altro di Alcatraz Bisognava dare colpetti Quindi il primo colpetto fa sì che si blocchi qua In questo preciso modo Se io lo ruoto così No Niente Forse così Mi sa che si è bloccato qua forever Si è bloccato qua per sempre Vediamo Magari con la gravità Niente E che non va né avanti Né indietro Cioè non è che si spo... Aspetta No Niente di niente Magari devo alzare la moneta già da qua No Secondo me bisogna far uscire questo con una serie di colpetti È l'unica Una volta arrivato qua Si è bloccato completamente Non so cosa fare Non torna neanche indietro Cioè se io do il colpetto... Ok Adesso è tornato indietro Perfetto Ok è tornato indietro Quindi La partenza dovrebbe essere questa Cioè se vedete Se io giro E arrivo qua Se do un colpetto Non succede niente Completamente bloccato Quindi torna indietro Ok perfetto Se io il colpetto invece Lo dessi prima Cioè tipo Qua Prima di partire Non succede niente Ottimo Oddio che casino Io questi non li sopporto tanto Cioè li odio con tutto me stesso Oh Ok Ce l'ho fatta Cioè è arrivato qua E adesso No 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 C'è tipo un labirinto Che deve seguire qua dentro C'è tipo un labirinto Come ho fatto a farlo scendere? L'ho mosso verso sinistra? E adesso lo muovo verso destra? Beh questo mi è andato a culo raga Ma tanto culo No è bloccata qua Devo toglierla Non riesco Non posso toglierla C'è tipo un labirintino Che deve seguire la moneta Cioè quindi c'è qualcosa Dietro la moneta Che deve seguire il labirinto Sento che adesso sono arrivato qua Prima l'ho mosso verso destra Adesso devo muoverlo Verso sinistra No Sono fermo qua Oh Così Olè Quella Figata Il primo è andato Ah non ti fa vedere come è fatto dentro? Guarda secondo me c'è tipo Vediamo se provo a rifare il Il percorso al contrario Ok È tornata dentro E adesso Ok Così E adesso colpetto Colpetto E torna com'era Wow Ok perfetto Questo è stato figo Difficile Però ho capito Cioè mi è andata di culo sostanzialmente Bene Bello Proviamo a fare Il secondo Che è questo qua Ok Anche qui lo scopo è quello di riuscire a togliere questa moneta E questa moneta che dovrebbe venire via così No Niente Perfetto Ottimo Oddio Invece questo rompicapo si chiama la luna Cioè sostanzialmente c'è un rivestimento di plastica trasparente Una moneta lì dentro Questi pezzi di luna che Si muovono Si muovono Che si muovono È come se fosse fatta a strati Una luna fatta a strati E questa moneta Qua dentro Che non esce Perfetto Ottimo Oddio no È attaccata con un magnete Vedete qua dietro? Non so se non si vedrà mai Però qua dietro Si vede proprio il magnete Quindi queste monete qua Madonna che palle Come faccio a toglierla se c'è un magnete? Devo infilarci l'unghia Oppure devo Oddio che difficile Ah Paura di spaccarmi tutto Se mi rompo l'unghia questo video diventa trash Ok No non ce la faccio Forse devo premere verso il basso Per farla uscire Perché eccolo qua al punto L'ho trovato Se premo verso il basso qua La moneta si alza dall'altra parte Ok avete capito il senso? Cioè se io premo qua La moneta si alza di là E si stacca dal magnete Ha senso o no? È vero o no? È sbagliato? Non è sbagliato Allora fammi vedere Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Stava uscendo Ho smesso di premere troppo presto Eccola qua Che tecnica Ce l'ho fatta Quella la prima moneta è uscita Madonna guarda che magnete c'era qua Ok E adesso C'è tipo Cosa è successo? Ah con la gravità Questo scende Questo scende E quindi Cos'è? Cosa succede con questo? A cosa appartiene Questo pirulino? È tipo una molla Che se io la prendo No Vai là È una molla? Oh E adesso con questa? Cosa devo fare? Cosa devo fare con questo? No Ehi Johnny Si muove qualcosa? Cosa? No Non si muove niente Oh L'ho spinta un po' più in giù È andata un po' più in giù Non so se avete sentito Ma è andata più in giù la moneta Vediamo Non lo so Magari devo avvitare Devo metterlo No Era già così No aspetta Riprenditi Ok Cacchio è stra duro Sto magnete però non si toglie Oh No Non si toglie Proprio per niente E la luna non si muove Cos'altro manca? Non c'è niente di magnetico No qua No Niente Adesso che l'ho rimossa Praticamente che cosa devo fare? Devo fare qualcosa? Per forza Oh Questo si muove Questo qui si muove Il Uno Due Tre Quattro Il sesto si muove Guarda Guarda che si sta muovendo Oh 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 Si sta Sta uscendo il sesto Dai Come ho fatto? Guardalo qua Guardalo qua Oh 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 No Ho sentito un rumore brutto E' uscito Questo Cosa posso fare? Non si toglie niente? No Perfetto La moneta Dovrebbe Dovrebbe uscire? Dovrebbe uscire? Ah si eccola qua Eccola qua Eccola qua Eccola qua Quella 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 Bello questo Tanta roba Tanta tanta roba Beh figata Aspetta che rimetto tutto come era E poi Infine Va Questo Qua dentro In qualche modo Con Il centesimo lì Voilà Beh mi sono piaciute tutti e due Abbastanza Cioè Intuibili Il primo mi è andato parecchio a culo Però allo stesso tempo mi sono divertito Quindi tanta roba Bene ragazzi Ce l'abbiamo fatta E' stato parecchio figo Spero che questo video vi sia piaciuto Per questo video regalo Questo rompicapo qua Quello di Alcatraz Ok Ad una persona che lascia like E un commento qua sotto Ovviamente dovete essere anche iscritti al mio canale Lo scelgo a caso Ovviamente il vincitore lo do su Telegram Se volete acquistare questi rompicapi Vi lascio i link in descrizione Dal sito di Puzzle Master Che ringrazio che mi li ha regalati Se invece volete vedere altri rompicapi Vi lascio ovviamente la playlist qua sopra Io come al solito vi mando un bacio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi